Presidente Grenno, la categoria e la Coppa non sono forse quelle di primissima fascia, però le emozioni che stasera ha raccolto il Savona riaccendono una scintilla forse soppita, perché portare a casa partite come questa, una qualificazione come questa, danno una spinta a livello emotivo particolarmente forte. Senza ombra di dubbio abbiamo iniziato molto bene il campionato, avevamo questo incontro, questa non formalità per noi da espletare e dovevamo recuperare un game non certamente semplice da recuperare, anche perché comunque non dimentichiamo che come sempre tutte le squadre che affrontano il Savona vanno con lo spirito di chi affronta una finale di Coppa dei Campioni e non di Coppa Liguria in questo senso. Questa sera abbiamo giocato la nostra partita, la nostra partita di sempre, quantomeno in queste ultime settimane. il risultato ci ha dato ragione, direi che anche il gioco ci ha dato ragione, è innegabilmente una grande, grandissima soddisfazione essere riusciti a passare il turno dopo un inizio decisamente a rallentatore delle prime partite di Coppa. Il cambio di marcia infatti è palese, dal punto di vista non solo della condizione anche fisica in campo, ma anche del senso di appartenenza, anche con la tifoseria stessa, la scena a fine partita è stata particolarmente bella. Beh, indiscutibilmente abbiamo un gruppo di tutto rispetto, giocatori, nuovi arrivati che si sono ben amalgamati con chi già era presente nel nostro gruppo. Il gioco si sta sviluppando nel modo giusto, la prestanza atletica, la resistenza, più passano le partite, più aumenta, quindi direi che sempre moderatamente dobbiamo essere ovviamente soddisfatti, senza esagerare, anche perché gli appuntamenti da affrontare sono ancora tanti, le squadre da incontrare sono ancora tante di categoria e ovviamente ben attrezzate e considerando che noi, come abbiamo detto da sempre, dall'inizio, andiamo a inseguire l'unico traguardo che abbiamo disponibile ed è chiaramente un traguardo non facile da raggiungere, dobbiamo andare avanti piano piano, a piccoli passi. Ogni settimana è una settimana da aggiungere. Grazie! 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 Grazie!